arriva 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 si ecco la sua grossa guardate quant'è bella guardate un po fonte di rauro avete visto una cosa simile ecco la testa e con la parete giallo perché non è nessuna pittura giallo qui c'è una ceppaia di nocciola ma che c'è noccioli si riportano all'interno siamo siamo dentro la corsa ecco la grotta vedete mi piace magnifica ecco qui la grotta questa grotta c'è milioni di anni andiamo qui adesso la visitiamo ecco 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 Grazie a tutti.